Ciao a tutti, io sono Daniele Zanieri e sono lo chef della cucina della Team Astana. Come potete vedere siamo nel mio regno, nel mio regno dove io preparo i piatti per la squadra, per gli atleti che affronteranno le gare dal Tour de France al Giro d'Italia, alla Vuelta. Come sapete gli atleti hanno bisogno di un'alimentazione particolare e io devo riuscire a alimentarli in una maniera più che ottimale. Chiaramente l'alimentazione di un atleta è diversa da un'alimentazione di una persona normale, che lavora normalmente, che fa un lavoro sedentario, che non è chiaramente un atleta professionista. Dalla mia sinistra abbiamo un bonitore dove viene usato per cuocere la pasta, gli atleti mangiano tanta pasta e tanto riso. Qui ci sono i fuochi dove si faccia anche verdure, grigliate e varie cosette. Qui abbiamo un forno per le cotture sia normali che al vapore. Questo è un banco frigo dove conservo tutti i prodotti. E questa è tutta dispensa, alla mia destra e alla mia sinistra, dispensa per dove teniamo l'approvvigionamento. Questo è un po' a grandi linee quello che viene dato agli atleti. Io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento e sempre vittoriosa. Forza Stan!